E' un'impressione mia o questo piano sembra... Idiota? Sono sicuro che qualche sa cosa sta facendo Madre Zulcon, esatto. E come si, come state vedendo adesso... I ranger galattici si sono auto invitati alla nostra festa, fai il galantuomo e accoglili con tutti gli onori. Con piacere presidente. Quella è la nave della morte di Victor Von Aion? A tutti i ranger, attaccate la nave di Victor. Quark, Quark, ma dov'è? Oh shit, è Victor Return. Oh shit. Comunque sto facendo avevamo sconfitto Madre Zulcon nello scorso episodio Ed è stato easy! E' stato easy la situa. E adesso come vedete siamo nello spianetizzatore Per distruggere definitivamente... The blah blah blah... Per distruggere definitivamente... Che male! Per distruggere ovviamente lo spianetizzatore. Adesso siamo contro Victor. E andiamo subito. Porco 2! No, no. Ho capito! Cos'è sta roba? Che vabbè, ma cosa sta roba cos'è? Ah sì, sicuro? Olè! Ho avviato la mia nave della marcia e ti ridurrò in coltiglia. Uh! Vai alla grande, Ratchet! Continua! No! Che due palle! Puoi farcela! Ah, sei proprio sicuro? Ah! Eh, vabbè, ho capito. C'hai anche gli sgherri. Torco 2! Ehi qua, Victor! No! Che male! Begati sti razzi! Ho un razzo traente! Ho un razzo traente! No! In avvicinamento! Io non riesco a sterzare! E allora spara! Devo sparare quel razzo! Io ricerca in avvicinamento! No! Eh, ma che che che... Sì, vabbè, ho capito. Sei sicuro che sei stato il migliore? Eh, adesso ti ammazzo. Mazza! Nessuno ammazza può sconfiggermi! Sì, sì, sei a 9% di vita! Ah, che dolore! Sei a 9% di vita, non per dire. Eh, ma questi cosi mi stanno prendendo. Distrutta! Oh, shit! Voi non l'avete visto, ma ve... Vectore... Cattivissimo, ma è entrato in azione! Vectore è entrato in azione! Sconfiggi Victor Von Jon! Va bene, va bene! Il ritorno, il ritorno! Va bene, va bene, va bene! Sistema antincendio della nave! Sì, ma non sarà facile! Il nucleo energetico della nave è danneggiata! Quindi ho deviato tutto sul nostro sistema primario! Possiamo avviare il generatore di emergenza, ma deve essere fatto manualmente! Come arrivo al generatore di emergenza? Si trova nella sala macchine, ma i controlli delle porte sono andate! Mi serve un minuto per riattivarli! A presto! Pensi di poter scappare da me? Sì, Victor! Ma domandona! Ci siamo! Entra! No, domandona niente! Qui! Sono nella sala macchine! Ok! Ci vediamo quando ho completato questo puzzle! Ok ragazzi, ho finito il puzzle! Sì, è mio! Eeeh, sapevo! In ogni caso, non avevo impegni! Avrei dovuto gettarti io stesso nell'inceneritore di Quarto! E invece no! Sono morto! Sì, la morte! No, you sure about that? Dai, sto morendo qui Eh, sono morto Oh no 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 Oh my god Altro puzzle Oh Ah, che due coiote Ci vediamo dopo Potenza massima Fantastico Le pompe sono attive Il controllo del sistema antincendio è in fondo alla nave Vai, presto Mary, ci ho messo un bordello a fare anche questo qua Mamma mia, oh Vai, si continua Spero sia l'ultimo Spero sia l'ultimo Però va tutto in fiamme E' finita? Sistema antincendio attivato Sì 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 Oh Oh, siamo entrati finalmente Però solo una cosa Perché non me le salva Armi Ah, mi ha sboccato questo Dico Perché non mi serve quello che avevo messo qui? Perché? Sfere sferiche Qua niente Qua niente Fiamme infernali C'è Boh Qua lasciamo così Ok Oh, ci siamo Fammi vedere se qua non ho giunto Armi Quanto del fato Ok Andiamo avanti Finalmente si è andato allo spianetizzatore Quanto sono belle queste sfere Quanto mi piacciono Oh my god Vediamo cosa è sta roba Oh mio dio What? What? Esplodono Ci sta Ci sta Ma se Volevo colpirli io Però fa niente Sono esploditi da soli Eeeh Tre Cioè mi ha dato tre di quelli Osti Ah, è vero che non c'ho rachet Ah, tre Perché c'era questo Non avevo visto F Eeeh Andiamo avanti a sto punto Non riesco Prendolo Oh shit Bene, è andato tutti addosso No dai Sono forti E sciolgono questi Eeeh Spavento Ma non lo sapevo Giuro Morite Allora Continuiamo Che armi dovrei potenziare? Ah giusto Di quanto ti hai fatto Il cecchino Lo vedi Sei da solo Cioè sciolto Ormai i nemici io Cioè è per colazione i nemici Sono easy da sconfiggere L'allarme è cosa che siete morti Sei sicuro? Richiede tu il bozzaino? Eh ma quante robe E rupe Quante robe Osti Duvalle Bello grosso L'ho spianetizzato Va bene Tanto muori adesso Uh Ok Altro Aritanium Aritan Non riuscirò mai A Pronunciare il nome Di queste maledette armi Che male I raritanium Ce lo stanno dando un bordello Questo va più che bene Che stanno a fare quei canini Sono fitto Ma da dove? Ah Ecco Guerra bot Ma ti pareva? Uno alla torretta Ah che tiro fuori l'arma del delitto Va bene L'hai voluta te Ciao amico Sì sì tranquilli raga Adesso lo ammazzo Sì sì Sparami Sparami Intanto non succede niente Boom Volato Fio Dubito che siano finiti Ma a me sta frase la dice sempre Un'altra arma che devo potenziare Vabbè Questa qua Ormai Sì guerra bot Certo come se avessi guerra bot Me li trovate in mano Che c'ho Che c'ho le hack Ah maledetti Mi stavo appena scontro Nesta zona Ok Uh Pacchetto di loschede Pensavo un Bolto d'oro Però fa niente Vediamo un po' Ufficio di Drek Oh anche Le carte doppie Faccio subito per qualcosa che Completo questo Perfetto Altri bolt in più Andiamo avanti Ok Minchia senza Clank È un po' Impossibile Cavolo Non posso fare Stato in avanti Velocemente Questa è una porta Vabbè Lasciamo perdere E C'è qualcos'altro Che gli da Mi sembra Però sapete come Non posso andare Velocissimo Perché ovviamente Non ho Clank Che sta con quella Lada Ad aiutare Lasciamo perdere Ah non posso Passare Ah non posso Niente Devo andare avanti Allora di qua A velocità Lenta Potrei anche Velocizzare Raga ma No non lo faccio Per adesso Eh madonna ma quanto Crudele sei Track Stavo per dire Ecco adesso Non mi ricordo più Perché mi sta Parlando sotto Ovviamente Aspetta Fatemi pensare Non mi ricordo più Lasciamo perdere Andiamo avanti Oh no Meno se Li scioglie C'è Che cosa sono Sti Crosi Fisciolgono Come su chi Qua tutte Stanze segrete Sono Giù che Sesso 3 Che va No non può andare In un altro pianeta Cioè Resta in questo qua E mai Poco verde No poco verde In questa zona No C'è Dranqui Tanto Eeeh Mannaggia a voi Io raga sto prendendo un bordello di raritanium Va bene così Meglio così Vole potenzionarmi Lasciatemi spaccare questi Eh ma abbiamo questi Questi qua sono forti Posso ne aggiungere i due Ah no Trollato Non posso lanciarne più di due Ma sicuramente con i potenziamenti Dopo potrò lanciarne più di due Andiamo avanti Eeeh Andiamo avanti niente C'è ancora qualcosa che Sono a secco Vabbè Vabbè Difficile Facciamo cosa Facciamo cosa Ci vedono dopo Quando l'ho completato Minchianieri Ce l'ho fatta Voi non sapete quanto Ci ho messo Ah quanto odio i rompicapi Quanto Buono sapete quanto Porco schifo Livello nuovo Oh Eh vabbè troppa gente E chi è che mi ha preso E chi è che mi ha preso Gnari non sono un cecchino nato Lo sapete Eeeh Questo Vai che ci potenzia il 4 Buono Eeeh mi ha dato un pugno Ok Ma andate a cagare Allora Usiamo subito Eeeh No Ancora quello Dove ho utilizzato Però Faccio questo No Io lo sapevo C'è il nanotech Ora lo prendo Sì ma non è vero Eeeh Eh ho usato la mia per niente Eh Passeggiata Sei proprio sicuro Ma ora mi danno più vita Ne Molta ma molta di più Andiamo a Ti Ok 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 il ritorno con gli stetsu con maniano Bello A posto Ok Ah ci sarà qualcos'altro sicuramente Ah si Ma questo è l'ufficio di Trek Sì è l'ufficio Figo figo Però Stavano non c'è qua Nintendo Trek che non c'è qui Ci vediamo dopo Dopo aver costruito un nuovo pianeta Ne creerò un altro E un altro ancora Ci pensi Decine di pianeti per i Blarg Forgiati non dalla natura Ma dalla mia azienda Fonderemo l'impero Sfruttando i pianeti in rovina Della vostra galassia Immagino Molti di voi resteranno senza casa Ma Non voleranno Ma qualcosa Deve essere pur sacrificato A tutti Trek non tace mai un minuto In effetti I laser di sicurezza ti impediranno di procedere Sì Ok Ok Puoi lasciare tutti senza fiato Potenzia il guanto del fato Allora direi di potenziarci Perfetto E questo ciò facciamo al massimo Povero mister Zurko Questo riesco Ok Ok E poi direi Questi due Ok Andiamo avanti Ok Ah C'è direi più un blindato Rivello 2 del 15 Eh sì Per quanto ti è stato Perfetto E si continua Non posso distruggerli Adesso Disattivo Porco Porco Perché tu Eh no Mi hanno ucciso Mamma mia Aspettate Saresti così gentile Da acquistare qualcosa Mi manca una sola vendita Per vincere il search di coltelli E continuiamo con questo E continuiamo con questo Sempre queste Anzi Ci vediamo quando Vi avrò sconfitti tutti Ok ragazzi Ok ragazzi ho appena finito di Uccidere tutti Tutti Quelli che c'erano qui dentro E mi sa che dopo questa porta Forse c'è il boss finale Penso che ci sia il boss finale Quindi Ragazzuoli Io direi che Questo episodio Possa concludersi qui Se vi è piaciuto ovviamente Lasciate subitissimo Il bel mi piace Ovviamente iscrivetevi al canale Se siete nuovi Perché è gratuito E non costa niente E ovviamente Condividete il video Con tutti Perché siamo giunti Alla fine del gioco Penso Penso che sia la fine del gioco Non è detto che sia la fine Però comunque Noi ci vedremo In un prossimissimo episodio Di Ratchet e Clank Bella rica Ciao